L'oroscopo è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di E, FIERUSCH TV Ariete, avete dato retta alle persone sbagliate in passato ma ora avete un'altra possibilità per rimettervi in gioco Preparatevi a mettere le basi per qualcosa di più solido con persone che vi mostrano rispetto e interesse Toro, cercate di non essere attaccati troppo alle cose materiali Va bene concedersi piccoli regali ma dovete anche limitarvi Moderatevi sempre, anche nei comportamenti perché è l'unico modo per poi non pentirvene dopo Gemelli, oggi qualcuno vi aprirà gli occhi su una situazione molto complessa che state vivendo Non fatevi cogliere impreparati e cercate di agire razionalmente Arriverete presto a una soluzione che farà andare tutto per il verso giusto Cancro, mettetevi in condizione di scegliere per conto vostro le vostre scelte da fare e non dipendere sempre dagli altri Anche se avete bisogno di un consiglio non è detto che non abbiate già la risposta alle vostre domande Leone, avete bisogno di confrontarvi con gli altri per espandere i vostri orizzonti e dare via alla nascita di idee migliori Non perché le vostre idee non siano buone ma perché dovete essere in grado di spaziare e aprirvi al nuovo Vergine, invece che pensare sempre al lavoro a ciò che volete ottenere a ciò che vorreste che gli altri facessero per voi oppure come vi dovrebbero considerare potreste essere voi i primi a cambiare atteggiamento Cercate di rilassarvi innanzitutto Bilancia, anche se le vostre intenzioni potrebbero essere buone qualcuno non reagirà nel modo che vi aspettate sarete più volte costretti a spiegare più volte la vostra posizione e non è detto che fino alla fine la comprendano Scorpione, non è una giornata da ostacoli insuperabili non sarete operati da impegno o lavoro ma comunque si richiede particolare serietà e professionalità Qualsiasi sia il vostro lavoro non potete fermarvi adesso Sagittario, prendete con maggiore entusiasmo ciò che vi arriva da questa giornata essere sempre pungenti e spigolosi non vi porterà da nessuna parte siate meno egocentrici Capricorno, concentratevi di più sul vostro lavoro e sui vostri obiettivi non conta ora il risultato ma quello che riuscirete a fare soprattutto con il lavoro di squadra affronterete situazioni un po' stressanti ma non vi preoccupate perché saprete benissimo come uscirne Acquario siete un po' fiacchi in questa giornata e sentirete di non riuscire a raggiungere i vostri obiettivi quotidiani anche perché molti metteranno in dubbio le vostre capacità e intenzioni troverete il modo di riordinare le vostre idee e riorganizzarvi Pesci dovreste avere le idee più chiare e mantenere sempre una linea fissa per i vostri obiettivi e i vostri traguardi la vostra eccessiva volubilità non fa altro che destabilizzare chi vi sta di fronte e anche voi per primi Grazie, ci vediamo all'oroscopo di domani Grazie